Il porto turistico di Francavilla al mare è da oggi una realtà. Questa mattina c'è stato il taglio del nastro dell'opera che rappresenta per la cittadina adriatica un vero e proprio salto di qualità e una infrastruttura strategica che permetterà un ulteriore sviluppo del turismo balneare e nautico lungo i sette chilometri di costa. All'inaugurazione dell'opera hanno partecipato fra gli altri il presidente della regione Marco Marsiglio ed il senatore Luciano D'Alfonso che da governatore aveva avviato con la sua giunta l'iter finale per l'opera. Sicuramente una bellissima notizia sarebbe ancora più bella se non ci fossero voluti 20 anni per portare a termine quest'opera se non ci fossero state inchieste fondate sul nulla finite una bolla di sapone che hanno portato due anni di sequestro di un cantiere che era quasi finito e che si è dovuto ricominciare da capo perché in quei due anni le opere si sono ammalorate insomma è stato faticoso si è dovuto passare attraverso ben cinque amministrazioni regionali prima di arrivare alla fine noi dobbiamo lavorare perché tutto questo non accada più e che un'opera pubblica pensata per il bene della città e dell'Abruzzo possa essere conclusa nei tempi giusti a costi ragionevoli. Da domani l'impegno è quello di adesso aggiungere il resto perché ora c'è l'approdo bisogna completare i servizi a terra bisogna completare tutto quello che possa rendere questo approdo competitivo attrattivo e generare benessere ed economia per il territorio. Oggi è un giorno di festa ma è un punto di partenza per Francavilla finalmente quest'opera è funzionale c'è ancora un lungo percorso da fare però diciamo che il punto di partenza è quello di oggi oggi mi prendo il merito di aver fatto convivere su uno stesso palco il senatore Luciano D'Alfonso che quest'opera la finanziata il governatore Marco Marsiglio che quest'opera insomma oggi l'ha inaugurata e quindi vederli insieme e a ragionare sullo sviluppo futuro di Francavilla ecco questo è il percorso che la politica dovrebbe compiere a tutti i livelli assolutamente sì in questa in questa zona accadono molte cose ad esempio il prossimo anno ci sarà il ponte ciclopedonale che sarà un ponte che cambierà lo skyline di Francavilla attirerà molti visitatori qui a Francavilla unita al porto alla nuova pista ciclopedonale che andrà realizzata nel lato sud insomma è una Francavilla che si sta sviluppando verso il futuro